capitolo 9 storia della falsa testuggine non potete credere quanto son lieta di ritrovarvi bambina mia disse la duchessa mettendo amichevolmente il suo braccio in quello di alice e camminando insieme alice era lieta di rivederla in tale buon umore e pensò che forse era il pepe che l'aveva resa tanto irritabile quando la vide in cucina allora che sarò duchessa disse fra sé ma senza troppo sperarlo non voglio aver tanto pepe nella mia cucina la minestra è buona anche senza chissà che non sia il pepe che rende la gente cotanto piccosa continuò tutta lieta ad aver scoperta una specie di nuova teoria è l'aceto che la rende aspra e la camomilla che la rende amara e sono i confetti e cose simili che addolciscono il carattere dei bambini vorrei che si conoscesse ciò le persone non sarebbero tanto tirchie a darsene e così discorrendo aveva quasi dimenticata la duchessa e trassaltò quando si udì dire all'orecchio cara mia voi avete la testa ad altro e dimenticate di parlare con me non potrei dirvene ora la morale ma me ne ricorderò fra breve forse non ne ha osservò cautamente alice che che bimba disse la duchessa ogni cosa la sua morale purché voi la possiate trovare e si strinse più presso ad alice mentre parlava ad alice non piacque l'essere così stretta con lei prima perché la duchessa era bruttissima secondo perché per la sua altezza e la appoggiava il mento sulla spalla ad alice ora quel mento era spiacevolmente acuto ma pure non volle essere scortese e sopportò quella noia come meglio poter il gioco va meglio ora disse così per alimentare la conversazione e sì rispose la duchessa e questa nella morale è l'amore è amore è amore è il pazzeron d'amore che fa girare il mondo ed il mio cuore ma qualche d'uno ha detto invece vi svegliò alice se ognuno badasse alle proprie faccende il mondo girerebbe meglio bene l'una vale l'altra disse la duchessa e mentre conficcava il suo mento acuto nelle spalle d'alice continuò e la morale di ciò la è questa guardate al franco gli spiccioli si guarderanno da sé come si diletta a la morale in ogni cosa pensò alice scommetto che siete sorpresa perché non vi cingo la vita col mio braccio disse la duchessa dopo qualche istante ma gli è perché non so che razza d'umore abbia il vostro fenicontero facciamo la prova potrebbe mordervi rispose alice che non ne voleva di quegli esperimenti è vero disse la duchessa i feniconteri e la senepe pizzicano entrambi e la morale è questa chi si rassembla s'assembla ma la senepe non è un uccello osservò alice bene come sempre disse la duchessa voi dite ogni cosa assai benino è un minerale credo disse alice certo rispose la duchessa che pareva desiderasse da consentire a tutte le cose che diceva alice qui vicino c'è una grande miniera di senape e la morale di ciò è questa la miniera è la maniera di gabbar la gente intiera no lo so sclamò alice che non aveva badato alle parole della duchessa è un vegetale non ne ha l'apparenza ma lo è proprio così disse la duchessa e la morale di ciò è questa siate quello che volete parere o se volete che ve lo dica più semplicemente non crediate mai d'essere altra se non quella che apparite ad altri d'essere o d'essere stata o che possiate essere e l'essere non è altro che l'essere di quell'essere che è l'essere dell'essere e non altrimenti credo che l'intenderai meglio disse alice con molta garbatezza se me la scrivereste ma non posso seguirvi con la mente quando la dite questo è nulla rispetto a quel che potrei dire se ne avessi voglia soggiunse la duchessa contenta come una pasqua non vi incomodate a dirne di più lunga di quella che avete recitata orora disse alice che incomodo rispose la duchessa vi fa un regalo di tutto ciò che ho detto sino ad ora è un regalo che costa niente pensò alice buono che non ne fanno di quei regali nei giorni inuziali ma non osò dir questo a voce alta sempre meditabonda domandò la duchessa mentre affondava quel suo mento acuminato sull'omero della bambina o ben di che rispose vivamente alice perché cominciava a sentirsi annoiata e la duchessa come i porci ne hanno di volare e l'amò qui con gran sorpresa ad alice la voce della duchessa andò morendo e si spensa in mezzo alla parola morale che tanto gradiva il braccio che era nel suo cominciò a tremare alice alzò gli occhi e vide che la regina stava davanti ad esse le braccia concerte accigliata e spaventevole come un uragano ma sta che bella giornata valbettò la duchessa con voce debole e fiocca vi do a tempo un avvertimento tuonò la regina battendo fieramente il terreno col piede o voi o la vostra testa dovranno abbandonare il giardino e ciò subito scegliete la duchessa scelse e fuggì via in un attimo ritorniamo al gioco disse la regina ad alice ma alice era troppo spaventata non lo so rispondere e la seguì lentamente sul terreno invitati intanto profittando dell'assenza della regina si riposavano all'ombra però appena la videro ricomparire ritornarono ai posti loro la regina fece soltanto capir loro che se avessero ritardato un momento avrebbero perduto la vita mentre giocavano la regina continuava a querelarsi con altri giocatori gridando sempre mozzatevi il capo oppure mozzatele il capo coloro che erano sentenziati a morte erano guardati da soldati che doveano cessare di servire d'archi al gioco e così in meno di mezz'ora non c'erano più archi e tutti i giocatori eccettuati il re e la regina ed alice erano guardati e condannati nel capo finalmente la regina lasciò il gioco tutta sbuffante e anelante e disse ad alice hai veduto la falsa testuggine no disse alice non so neppure che sia la falsa testuggine è quella con cui si fa la minestra di falsa testuggine disse la regina non ne ho mai veduto ne ho dito parlare soggiunse alice vieni dunque disse la regina ed essa ti racconterà la sua storia mentre andavano insieme alice sentì che il le diceva a voce bassa a tutti i condannati fo grazie a tutti oh ne sono lieta disse fra sé alice perché sapete la nostra fanciulla era mestissima vedendo tanta gente condannata a morte dalla regina tosto giunsero vicino a un grifone accoccolato e dormente al sole se voi non sapete che è il grifone guardate la vignetta su su pigro disse la regina conducete questa fanciulla a vedere la falsa testuggine che le farà il racconto della sua vita quanto a me devo tornare indietro per far eseguire alcune sentenze di morte e andò via lasciando alice sola quel grifone non piacque ad alice l'aspetto della bestia ma poi riflettendo che il rimanere col grifone non era tanto pericoloso per lei quanto il rimanere con quella selvaggia regina stette lì ed aspettò il grifone si levò si stropicciò gli occhi aspettò che la regina sparisse totalmente e poi si mise a sghignazzare che commedia disse il grifone parlando un po' a se stesso un po' ad alice qual è la commedia domandò alice è lei stessa soggiunse il grifone è un ruzzo che ha in testa ma le teste non sono mai mozzate perciò venite qui ognuno comanda venite osservò alice mentre lo seguiva lentamente non sono stata mai così comandata in tutta la mia vita non si erano di molto inoltrati quando videro a una certa distanza la falsa testuggine che sedeva mesta e soletta sull'orlo d'una rupe ed essendosi avvicinati un poco più alice sentì che sospirava come se le si spezzasse il cuore e la nebbe compassione perché si duole domandò al grifone e il grifone rispose un po' su e un po' giù come gli anzi è un ruzzo che ha in testa non ha dolore di sorta venite e andarono verso la falsa testuggine che li guardò a concerti occhioni ripieni di lacrime ma senza far motto questa fanciulla disse il grifone vorrebbe sentire la vostra storia vorrebbe gliela racconterò rispose la falsa testuggine con voce profonda e sepolcrale sedete e non dite una parola sinché io abbia terminato e sedettero e per qualche minuto niente uno fiatò intanto alice osservò fra sé non so come mai terminerà se non comincia mai ma aspettò pazientemente una volta disse finalmente la falsa testuggine con un gran sospirone io era una vera testuggine quelle parole furono seguite da un altro lunghissimo silenzio interrotto soltanto da qualche dal grifone e da singhiozzi continui della falsa testuggine alice stava per levarsi e dirle grazie della vostra storia interessante quando riflette che essa doveva dire qualche cosa di più e sedete tranquillamente senza far motto quando eravamo piccini continuò la falsa testuggine un poco più quieta ma sempre singhiozzando andavamo a scuola al mare la maestra era una vecchia testuggine e noi la chiamavamo tartaruga perché la chiamavate tartaruga se non era tale domandò alice la chiamavamo tartaruga perché ci insegnava a tartagliare disse la falsa testuggine con dispetto avete poco comprendonio vi dovreste vergognare di far questioni tanto semplici aggiunse il grifone e poi zittirono ed entrambi fissarono gli occhi sulla povera alice che le pareva sprofondarsi sotterra finalmente il grifone disse alla falsa testuggine a innanzi comare ma non andar per le lunghe sai e così continuò andavamo a scuola al mare benché voi non lo crediate non ho mai detto ciò interruppe alice ma sì tornò la falsa testuggine zitta soggiunse il grifone pria che alice avesse potuto rispondere la falsa testuggine continuò noi fummo educate benissimo infatti andavamo a scuola ogni giorno anch'io andava a scuola ogni giorno disse alice non bisogna vantarsi per così poco e avevate degli extra domandò la falsa testuggine con qualche ansietà sì rispose alice imparavamo il francese e la musica e il bucato disse la falsa testuggine no davvero disse alice tutta corrucciata ah la vostra dunque non era una buona scuola disse la falsa testuggine come se si sentisse sollevata nella nostra c'era alla fine del programma extra francese musica e bucato ma non ne avevate bisogno disse alice voi vivevate nel fondo del mare non ho avuto mai mezzi per impararlo soggiunse sospirando la falsa testuggine così seguì soltanto i corsi ordinari cioè domandò alice a reggere e stridere prima di tutto rispose la falsa testuggine e poi le diverse operazioni dell'aritmetica ambizione distrazione bruttificazione e detersione non ho mai sentito parlare di bruttificazione disse alice che mai il grifone levò le due zampe all'aria in segno di sorpresa esclamò mai sentito parlare di bruttificazione ma sapete che significa bellificazione eh sì rispose alice ma un po dubbiosa significa rendere qualche cosa più bella ebbene continuò il grifone se non sapete che significa bruttificare voi siete una sciocca alice non si vedeva incoraggiata a fare altre domande così si rivolse alla falsa testuggine e disse che altro dovevate imparare ecco c'era la stoia rispose la falsa testuggine contando i soggetti ad uno ad uno sulle natatoie la stoia antica e moderna con la giro fotografia poi il disdegno il maestro di disdegno era un vecchio grongo e veniva una volta la settimana si insegnava il disdegno il passaggio e la frittura ad occhio e questa che rassomigliava a ella disse alice non ve la potrei mostrare rispose la falsa testuggine perché vedete sono tutto ad un pezzo e il grifone non l'ha mai imparata non ebbi tempo rispose il grifone ma studiai le lingue classiche ebbene ebbi per maestro un vecchio granchio sapete non andai mai da lui disse la falsa testuggine con un sospiro mi dissero che insegnava catino e gretto proprio così disse il grifone sospirando anche lui ed entrambe le bestie nascosero la faccia fra le zampe quante ore di lezione avevate al giorno disse alice prontamente per mutare argomento dieci ore il primo giorno rispose la falsa testuggine nove il secondo e così discorrendo che metodo curioso sclamò alice ma è questa la ragione perché si chiamano lezioni osservò il grifone perché soffrono lesioni ogni giorno era nuova quell'idea per alice e ci pensò su un poco prima di fare quest'altra osservazione allora avevate vacanza l'undicesimo giorno si intende disse la falsa testuggine e come facevate nel duodecimo domanda vivamente alice ma il grifone l'interruppe e disse con voce risoluta basta in quanto alle lezioni dille ora qualche cosa dei giochi capitolo decimo la contraddanza dei gamberi la falsa testuggine di fuori un gran sospiro e passò il rovescio di una natatoia sugli occhi riguardò ad alice e cercò di parlare ma per qualche istante i singhiozzi glielo impedirono ai pare che abbia un osso di traverso alla gola disse il grifone e si accinse a scuoterla e a battere la schiena finalmente la falsa testuggine ricoverò la voce e con le lacrime che gli colavano sulle guance riprese il discorso forse voi non siete vissuta lungo tempo nel fondo del mare no certo disse alice e forse non siete stata mai presentata un gambero alice stava per dire una volta gustai ma inghiotti la frase e disse no mai così voi non potete farvi un'idea della bellezza di una contraddanza dei gamberi no davvero rispose alice ma che è mai la contraddanza dei gamberi ecco disse il grifone prima di tutto si forma una linea lunghesso la spiaggia due linee gridò la falsa testuggine foche testugini di mare salmoni e simili poi quando avete tolti via dalla spiaggia i polipi viscosi e ciò fa perdere molto tempo interruppe il grifone voi fate una vande ognuno avendo un gambero per cavaliere gridò il grifone e già disse la falsa testuggine voi fate una vande poi un balance scambiate i gamberi e ritornate in plus continuò il grifone e poi capite continuò la falsa testuggine voi scaraventate i i gamberi urlò il grifone saltando come un matto nel mare con tutta la vostra forza indi nuotate dietro a loro strillò il grifone fate una capriola nel mare gridò la falsa testuggine saltellando mattamente qua e là scambiate di nuovo i gamberi vociò il grifone a squarciagola ritornate a terra di nuovo e e questa è la prima figura disse la falsa testuggine abbassando la voce tutta un tratto e le due bestie che pur di anzi saltavano follemente si sdraiarono meste silenziose e guardarono alice debba essere una gran bella contraddanza cotesta disse timidamente alice ne vorreste avere un saggio domandò la falsa testuggine mi piacerebbe di molto disse alice animo dunque facciamo la prima figura disse la falsa testuggine al grifone possiamo farla senza gamberi sapete chi canterà cantate voi disse il grifone io ho dimenticato le parole e cominciarono a ballare gravemente intorno ad alice pestandole ai piedi quando le si avvicinavano troppo o battendo il tempo con le zampe davanti mentre la falsa testuggine cantava ad agio ad agio e mestamente nasei disse a lumaca cammina un po più lesta che un porcellin di mare la coda mi calpesta già gamberi e testudi se vengono a fidanza e aspettano il segnale per cominciare la danza volete voi volete volete voi ballare volete voi volete coi gamberi danzare che gioia che delizia innanzi indietro andremo nel mar scalaventati coi gamberi saremo rispose la lumaca oimè via un po lontano a me non piace un ballo cotanto ardito e strano volete voi volete volete voi ballare volete voi volete coi gamberi danzare che male gli rispose il candido nasello di là c'è un'altra sponda c'è un suolo assai più bello dall'adria alla dalmazia faremo un salto audace o non temer carina sta quieta e vivi in pace volete voi volete volete voi ballare volete voi volete coi gamberi danzare grazie tante è una bella contraddanza disse alice lieta che fosse finita e poi quel canto curioso del nasello mi piace tanto a proposito dei naselli disse la falsa testugine essi sono voi ne avete veduti non è vero si rispose alice li ho veduti spesso a tavo e singhiotti il resto della parola non so dove sia tavo disse la falsa testugine ma se voi li avete veduti spesso sapete che cosa sono lo credo rispose alice raccorgendosi hanno la coda in bocca e sono tutti coperti di pan grattato ingannate in quanto al pan grattato soggiunse la falsa testugine le miche di pane sparirebbero nel mare ma essi hanno però la coda in bocca e la ragione è questa e qui la falsa testugine sbadigliò e chiuse gli occhi ditegliela voi la ragione chiese al grifone la ragione è la seguente disse il grifone essi vollero andare al ballo coi gamberi e così furono buttati nel mare e così fecero il capitombolo molto al di là e così si attaccarono la coda in bocca e così non potettero distaccarsela più e questo è quanto grazie disse alice davvero interessante non seppi mai tanto intorno ai naselli presto fateci un racconto delle vostre avventure disse il grifone ve ne potrei raccontare cominciando da stamane disse alice assai timidamente ma è inutile raccontarvi quelle di ieri perché ieri io era tutt'altra persona oh spiegateci ciò disse la falsa testugine no no prima le avventure sclemò il grifone impaziente le spiegazioni sono lungazzini noiose così alice cominciò a raccontare loro i casi suoi sin dal momento che incontrò il coniglio bianco ma bentosto cominciò a sentire un poco di paura che le due bestie si erano appiccicate ai fianchi slargando gli occhi e spalancando le bocche però in pochi istanti la piscina si riebbe dal timore i suoi uditori si mantennero quieti sino a che la giunse alla ripetizione del guglielmo tu sei vecchio darei fatta al bruco e siccome le parole le uscivano tutte diverse dal vero originale la falsa testugine dia fuori uno dei suoi sospironi e disse è curioso davvero è curioso come la curiosità sclamò il grifone è uscito fuori tutto diverso soggiunse la falsa testugine dopo averci riflettuto sopra vorrei che ella ci recitasse qualche cosa dille che cominci e guardò il grifone pensando che gli avesse autorità sopra alice levatevi disse il grifone e ripeteteci la canzona piemontese 30 40 o come queste bestie comandano e fanno recitare le lezioni pensò alice sarebbe lo stesso per me che fossi a scuola ciò non di meno si levò e cominciò a ripetere quel canto ma la sua testolina era tanto piena di gamberi e di contraddanze che non sapea che si dicesse e i versi uscirono fuori assai male son 30 son 40 il gambero già canta ma troppo brustolito mi voglio incipriare in faccia a questo specchio mi voglio spazzolare e voglio rivoltare e piedi e naso in su ma cotesto costiglia diverso da quello che io recitava quando ero bimbo disse il grifone non l'ho mai sentito prima osservò la falsa testugine ma gli è sciocco oltremisura alice non rispose ma sedette con la faccia nascosta fra le mani pensando se mai le cose tornassero una volta al loro corso naturale vorrei che me lo spiegaste domandò la falsa testugine non sa spiegarlo disse il grifone cominciate la seconda strofa a proposito di piedi continuò la falsa testugine come poteva egli rivoltarli e con naso per giunta è la prima posizione del ballo disse alice ma era talmente imbarazzata con quell'argomento che non vedeva il momento di mutare soggetto continuate la seconda strofa replicò il grifone con impazienza comincia bianca la sera alice non osava disubbidire benché fosse sicura che la reciterebbe tutta al rovescio e disse con voce tremante bianca la sera appare nel loro giardino in fretta mangiavano un pasticcio l'ostrica e la civetta perché recitava tutte coteste sciocchezze interruppe la falsa testugine se non ce le spiegate è una vera babella di confusione si fareste meglio di smettere disse il grifone e alice fu lieta di terminare quella filastrocca vogliamo provare un'altra figura della controldanza dei gamberi continuò il grifone o preferireste invece una canzona dalla falsa testugine oh sì una canzona se la falsa testugine vorrà cantarcela rispose alice ma con tanta premura che il grifone gridò con una voce di bestia offesa ah chi può spiegare i gusti altrui compare cantaci la canzona della zuppa di testugine la falsa testugine sospirò profondamente e con voce talvolta soffocata da singhiozzi cantò così astro di sera o verde dante ricca zuppa che fumi in concava zuppiera in te rapito il cucchiaion si ficca e ne riempie una scolella intiera astro di sera deliziosa zuppa in te il mio pan si inzuppa e di te canto o zuppa canto all'astro di sera canto la tua bontà civile zuppa astro di sera e chi sarà lo sciocco che a te preferirà sia pesce o caccia se di te può comprarne anche un baiocco per lavarsi lo stomaco e la faccia astro di sera deliziosa zuppa in te il mio pan si inzuppa e di te canto o zuppa canto all'astro di sera canto la tua bontà civile zuppa piss il coro gridò il grifone e la falsa testugine si preparava a ripeterlo quando sudì una voce a distanza comincia il processo vieni vieni gridò il grifone e prendendo alice per mano fuggì con lei senza aspettare la fine del coro che processo domandò alice tutta affannata mentre fuggiva ma il grifone rispose soltanto vieni e scappava più lesto mentre il vento portava sempre più debolmente alle loro orecchie l'eco fuggevole delle parole suavi e malinconiche canto all'astro di sera canto la tua bontà civile zuppa capitolo undicesimo chi ha rubato le torte e giunselo e videro che il re e la regina di cuori erano seduti in trono circondati da una gran folla composta di uccellini di bestioline e da tutto il mazzo di carte il fante stava davanti incatenato con un soldato a destra e un altro a sinistra presso al re stava il coniglio bianco con la tromba in una mano e un ruotolo di pergamene nell'altra nel mezzo della corte c'era una tavola con un gran piatto di torte le quali sembravano tanto buone che risvegliarono l'appetito ad alice vorrei che finissero presto il processo pensò alice e che ci servissero quelle buone torte ma siccome non ce n'era neppure la speranza allora ella cominciò a guardare tutto intorno per uccidere il tempo alice non era stata mai in un tribunale ma ne aveva letto alcunché nei libri e fu lieta di poter chiamare per nome tutti coloro che vedea quegli è il giudice disse fra sé perché porta un gran parruccone e il giudice non era altro che il re e siccome portava la corona sopra la parrucca guardate il frontespizio per averne un'idea era un poco imbarazzato certo non gli andava bene e quello è il seggio dei giurati osservò alice e quelle dodici creature disse creature capite perché alcune erano bestie ed altri uccelli credo che siano i giurati vi ripete questa parola un paio di volte fiera del suo sapere perché pensò e ne aveva ben donde che pochissime ragazze dell'età sua sapessero ciò i dodici giurati erano occupatissimi a scrivere sulle lavagne che cosa fanno disbigliò alice all'orecchio del grifone non possono aver nulla da scrivere perché il processo non è ancora cominciato scrivono i loro nomi disbigliò in risposta il grifone temono di scordarsene pria che il processo sarà finito sciocchi gridò alice con voce disdegnosa ma si fermò subito perché il coniglio bianco esclamò silenzio nel tribunale e il re inforcò gli occhiali e si mise a riguardare ansiosamente in ogni parte per vedere chi parlasse alice vedeva così bene come se fosse stata dietro le loro spalle che scrivevano sciocchi sulle loro lavagne salvo oltre sì che uno di loro non sapeva sillabare sciocchi e domandava al suo vicino come doveva compitarlo che ammasso di scarabocchi fanno sulle lavagne pria che il processo sia terminato pensò alice uno dei giurati aveva una matita che scricchiolava alice non la poteva soffrire e perciò girò intorno al giunse alle spalle di lui e colse tosto il destro per strappargiela ciò fece con tale lestezza che il piccolo giurato era tonio la lucertola non seppe che fosse della sua matita girò quella per ritrovarla ma in vano perciò dovete rassegnarsi a scrivere col dito in tutto il resto della giornata ciò valse poco perché il dito non lasciava traccia alcuna sulla lavagna usciere leggete l'atto d'accusa disse il re allora il coniglio dietro squilli di tromba poi aprì il ruotolo delle pergamene e lesse così la regina di cuori fedele torte in un bel dì d'està l'empiofante di cuori rubò le torte e certo a morte andrà ponderate il vostro verdetto disse il re a giulati non tanta fretta interruppe vivamente il coniglio vi sono molte cose da fare prima chiamate il primo testimonio disse il re e coniglio bianco dietro squilli di tromba e gridò il primo testimonio ora il primo testimonio era il cappellaio venne con una tazza di tè in mano una fetta di pane col burro nell'altra domando perdono alla vostra maestà disse se vengo così impacciato ma il fatto sta che io non avea finito ancora di prendere il tè quando fui chiamato avreste dovuto finirlo rispose il re quando avete cominciato a prenderlo il cappellaio guardò la lepre marzolina che l'avea seguito al tribunale andando a braccetto col ghiro credo al 14 di marzo disse il capellaio al 15 esclamò la lepre marzolina al 16 soggiunse il ghiro notate queste cose disse il re ai giulati e questi si misero a scrivere con molta premura le tre date sopra le lavagne e poi le sommarono riducendole a lire e centesimi chiamatevi il cappello disse il re al capellaio non è mio rispose il capellaio è rubato esclamò il re rivolto ai giulati i quali subito presero nota del delitto ne tengo per venderli soggiunse il capellaio per spiegare il fatto non ne ho di mio sono un capellaio qui la regina inforcò gli occhiali guardò fieramente il capellaio che allibì di paura rendete la vostra testimonianza disse il re e non siate spaventato altrimenti vi farò subito mozzare il capo queste parole non incoraggiarono punto il testimone e non si reggeva più in gambe guardava ansiosamente la regina e confuso morsicò un bel pezzo del labbro della tazza invece del pane col burro giusto allora alice provò una sensazione curiosissima che la riempì di sorpresa sino a che potete rendersene ragione e la cresceva di nuovo pensò che sarebbe stato bene per lei di lasciare il tribunale ma poi riflettendoci su volle restare almeno sino a che vi fosse spazio per lei vorrei che non pigiaste tanto disse il giro che le sedeva vicino posso appena respirare non posso fare a meno rispose suavemente alice vedete sto crescendo voi non avete nessun diritto di crescere qui urlò il giro non dite delle sciocchezze gridò alice sapete che anche voi crescete sì ma non tanto soggiunse il giro io non cresco a quel modo ridicolo e borbottando fra sé si alzò e andò a mettersi all'altro e borbottando fra sé si alzò e andò a mettersi all'altro lato del tribunale intanto la regina non aveva mai sviato il suo sguardo feroce dal cappellaio e mentre il giro attraversava la sala del tribunale disse ad un uscere recatemi la lista dei cantanti nell'ultimo concerto a queste parole il cappellaio tremò a verghe così che le scarpe gli scappavano da piedi rendete la vostra testimonianza ripete chiaramente il re o vi farò mozzare il capo poco importa che tremiate o no ma sta sono un povero sventurato cominciò il cappellaio con voce tremante e ho appena cominciato a prendere il tè non è ancora una settimana in quanto al pane col burro che si assottiglia e alla testa soppressata che soppressata esclamò il re la testa soppressata cominciò col tè rispose il cappellaio sicuro che testa comincia con un t rispose vivamente il re ma avete voi preso per un gozo andate via sono un povero sventurato continuò il cappellaio e dopo il tè tentennavano tutti solo la lepre marzolina disse non disse niente interruppe con impeto la lepre marzolina lo diceste disse il cappellaio lo nego replicò la lepre marzolina lo nega disse il re ebbene lasciate andare bene ad ogni modo il giro disse e il cappellaio lo guardò per vedere se gli pure volesse dargli una mentita ma il giro non negava dormiva profondamente dopo ciò continuò il cappellaio mi preparai un'altra fetta di pane col burro ma che cosa disse il giro domandò un giurato non me lo posso ricordare disse il cappellaio voi dovreste ricordarlo osservò il re se no vi farò mozzare il capo il misero cappellaio si lasciò cadere la tazza il pane col burro e le ginocchia a terra esclamò maestà sono un povero mortale siete un povero oratore disse il re qui un porcellino d'india di è un applauso ma subito fu soppresso dagli usciari del tribunale ed ecco come fecero presero un sacco di canevaccio con delle gacci all'orlo visitaron giù capovolto il porcellino d'india e poi vi si sedettero sopra sono contenta di aver veduto ciò pensò alice ho letto tante volte nei giornali alla fin dei processi vi fu un tentativo d'approvazione che fu subito soppresso dagli usciari del tribunale ma sino ad ora non potete mai comprendere che volesse dire se è questo tutto quel che voi sapete voi potete ritirarvi continuò il re qui un altro porcellino d'india gli è un applauso ma fu soppresso addio porcellini d'india non vi vedrò più disse alice ora le cose andranno meglio vorrei piuttosto finire il mio tè disse il capellaio riguardando con ansietà la regina la quale leggeva la lista dei cantanti potete andare disse il re e capellaio fuggì dal tribunale senza nemmeno rimettersi le scarpe e mozzategli il capo fuori soggiunse la regina indirizzandosi ad un ufficiale ma il capellaio era sparito dalla vista pria che l'ufficiale giungesse alla porta chiamate l'altro testimonio il re era la cuoca della duchessa aveva la pepaiola in mano e alice indovinò chi fosse anche prima che entrasse nel tribunale perché tutti coloro che erano vicini all'uscio cominciarono a starnutire prendete la vostra testimonianza disse il re no rispose la cuoca il re guardò con ansietà il coniglio bianco che mormorò a voce bassa ma sta esaminate da voi questo testimone bene se devo farlo mi converrà farlo disse il re con una cera malinconica e dopo aver poste le braccia concerte al petto e fatto gli occhiacci alla cuoca disse con voce profonda di che sono composte le torte di pepe per la maggior parte dispose la cuoca di merluzzo soggiunse una voce sonnolenta dietro ad essa afferrate quel giro gridò la regina tagliategli il capo fuori quel giro sopprimetelo pizzicatelo strappategli i baffi durante qualche istante il tribunale fu una vera confusione mentre il giro era preso e quando si ristabiliva l'ordine la cuoca era sparita non importa disse il re con un'aria di sollievo chiamate l'altro testimone e bisbiliò all'orecchio della regina cara mia dovreste esaminare voi l'altro testimone alice stava osservando il coniglio che ripassava la lista curiosa di vedere chi mai sarebbe l'altro testimone perché sino ad ora non hanno affatto prove diceva fra sé figuratevi la sua sorpresa quando il coniglio bianco chiamò con la sua voce stridula alice capitolo 12 testimonianza ad alice eccomi rispose alice e dimenticando che in quegli ultimi momenti era cresciuta smisuratamente salto su molto lesta rovesciando col suo gonnellino il palchetto dei giurati di tal che questi capitombolarono con la testa in giù sulla folla che era di sotto e restarono con le gambe all'aria ciò le rammentò il rovescione che la settimana avanti aveva casualmente dato a un globo di cristallo che conteneva dei pesciolini dorati oh vi prego di avermi per scusata sclamò con voce d'angoscia e cominciò a raccattarli con molta sollecitudine perché piena dell'idea dei pesciolini dorati caduti dal globo pensava che doveva prontamente raccoglierli e rimetterli nel pacchetto dei giurati sennò sarebbero morti il processo disse il re con voce autorevole grave non potrà andare innanzi se non quando tutti i giurati saranno rimessi nei loro propri posti dico tutti soggiunse con molta enfasi riguardando chiaramente alice alice guardò il palchetto dei giurati e vide che nella fretta aveva rimessa la lucertola col capo in giù per cui la povera bestiolina agitava la coda al di sopra ma in modo da eccitare la compassione perché non poteva muoversi subito la estrasse e la rimise convenientemente non già perché importi assai disse fra sé poiché né la sua coda né la sua testa recheranno vantaggio al processo appena i giurati si rimisero dal colpo che li aveva rovesciati e che furono ritrovate le lavagne e le matite e consegnate loro si misero a scarabocchiare con molta premura la storia del loro ruzzolone salvo la lucertola che non si era riavuta e sedeva con la bocca spalancata e guardando la volta cosa sapete di questo affare domandò il re ad alice niente rispose alice niente affatto replicò il re niente affatto soggiunse alice ciò è molto importante disse il re rivolgendosi giurati essi non si accingevano a scriverlo sulle lavagne quando il coniglio bianco li interruppe non importante e questo è il senso delle parole di vostra maestà disse con voce rispettosa ma saittandolo col guardo e facendogli il visaccio mentre parlava non importante già è quel che voleva dire soggiunse il re in fretta e poi si mise a recitar fra denti importante non importante non importante importante come se volesse provare quale delle due parole suonasse meglio all'orecchio alcuni dei giurati scrissero importante altri non importante alice potete osservare perché era vicina a loro e poteva sbirciare sulle lavagne ma non importa niente pensò fra sé allora il re era stato occupatissimo a scrivere sul suo tacquino gridò silenzio ed esse dal suo libricino regola quarantaduesima ogni persona la cui altezza supera il miglio deve uscire dal tribunale ognuno ricordò alice io non sono alto miglio disse alice sì che lo siete rispose il re quasi due miglia d'altezza soggiunse la regina ebbene poco mi cale ma non andrò via disse alice oltre a ciò quella non è una regola regolare l'avete inventata ora che è la più vecchia regola nel libro rispose il re allora dovrebbe essere la regola prima disse alice il re impallidì e chiuse il tacquino in fretta ponderate il vostro verdetto disse rivolgendosi a giurati ma con voce sommessa e tremolante ma è sta ci sono altre testimonianze disse il coniglio bianco sbalzando in piedi giusto adesso abbiamo trovato questo foglio che c'è dentro mandò la regina non lo ha aperto ancora disse il coniglio bianco ma sembra una lettera scritta dal prigioniere a qualche d'uno deve essere così disse il re salvo che sia stata scritta a nessuno ciò che non si fa generalmente a chi è stata indirizzata domandò uno dei giurati non ha indirizzo di sorta disse il coniglio bianco difatti non c'è scritto nulla al di fuori e spiegò il foglio mentre parlava e soggiunse somma tutto non è punto una lettera sono dessi scritti dalla mano del prigioniere domandò un giurato no non lo sono rispose il coniglio bianco ed è questa la più strana di tutte le cose i giurati si riguardarono confusi forse egli ha imitata la scrittura di qualche d'uno disse il re qui i giurati si rasserenarono maestà disse il fante non li ho scritti e niuno potrebbe provarmi l'opposto e poi non c'è nessuna firma alla fine e non averlo firmato rispose il re prova doppiamente il vostro delitto voi dovevate avere l'intenzione d'offendere se no da galantuomo avreste firmato il foglio tutti applaudirono e con ragione perché era quello il primo detto spiritoso che il re avesse detto in quel giorno ciò prova il suo delitto esclamò la regina ciò non prova niente affatto disse alice ma se non sapete neppure ciò che contiene il foglio lezzetelo disse il re il coniglio bianco inforcò gli occhiali e domandò maestà dove devo incominciare cominciate dal principio disse il re con tuono solenne e continuate sino alla fine poi fermatevi or questi erano i versi letti dal coniglio bianco e la vi fece un grazioso invito e da lui mi voleste rammentar e quindi ella mi dette il ben servito ma mi disse non mi sai mica notar io non la visitai disse pur di anzi e questo è il vero e ognuno di noi lo sa ma se lei spingerà la cosa innanzi or dite allora di voi che ne avverrà una a lei detti ed essi due le diero e voi mendeste tre con sovra più tutte a voi ritornaro un mistero eppure erano mie or non son più se dessa o io per caso inopinato involti in quest'affare ci vedrem confido in voi che ognun fia liberato come prima fra noi li rivedrem spiegarmi al fine mi sarà concesso già sapete un attacco ella sentì ma voi foste per lui per noi per esso l'ostacolo fatal che la colpì non gli dite già mai che preferisca costoro ciò debba essere un mister un secreto che altrui non apparisca un secreto nascosto nel pensier e questo è il più importante documento contro l'accusato disse il re stropicciandosi le mani or dunque ai giurati se uno di loro potesse spiegarmelo disse alice la quale era talmente cresciuta in quegli ultimi istanti che non avea più paura di interrompere il re mi darei 50 centesimi io non credo che vi sia in esso neppure un briciolo di senso comune i giurati scrissero tutti sulle lavagne ella non crede che vi sia in esso neppure un briciolo di senso comune ma nino cercò di spiegare il senso di quel foglio se non c'è senso comune disse il re ciò ci toglie da un mondo di imbarazzi e noi certo non ci affanneremmo a trovarvene uno eppure non seprei continuò spiegando il foglio sul ginocchio e spirciando la poesia ma mi pare di vedere un senso occulto in essi disse non sai mica a nuotare voi non potete nuotare non è vero continuò rivolgendosi al fante il fante scosse mestamente il capo e disse ne ho io l'apparenza e certamente no perché era fatto tutto di cartone bene per ora disse il re e continuò fra se stesso a borbottare sui versi e questo è il vero e ognuno di noi lo sa ciò si riferisce a giurati non c'è dubbio una a lei detti ed essi due gli diero ciò spiega l'uso che gli fece delle torte intendete ma disse alice continua con le parole tutte a voi ritornaro già e se sono là disse il re con un'aria di trionfo indicando le torte che erano sulla tavola niente di più chiaro di ciò continua già sapete un attacco e la sentì voi non aveste mai degli attacchi nervosi mia cara non è vero soggiunse rivolgendosi alla regina no mai o no curiosamente la regina e in quell'istante scagliò il calamaio al capo della lucertola il povero tonietto aveva abbandonato l'uso di scrivere col dito sulla lavagna perché si era accorto che non vi lasciava alcuna traccia ma ora si rimise sollecitamente all'opera usando l'intiostro che gli gocciolava sulla faccia e l'usò sinché ne ebbe dunque queste parole non si attaccano a voi disse il re guardando con la bocca sorridente tutti intorno al tribunale e vi fu gran silenzio è un bisticcio soggiunse il re con voce irata e tutti allora risero che i giurati ponderino il loro verdetto ripete il re forse per la ventesima volta in quel giorno no no disse la regina prima la sentenza poi il verdetto ma che sciocchezze esclamò alice ad alta voce che idea ad aver prima la sentenza tacete gridò la regina tutta infiammata in viso no certo disse alice decapitatela urlò la regina con tutta la voce che aveva in gola ma ne uno si mosse chi vi stima chi vi teme disse alice allora era cresciuta di tanto che giungeva alla sua statura naturale voi non siete altro che un mazzo di carte appena disse queste parole tutto il mazzo si sollevò in aria furiosamente e poi si rovesciò sopra la fanciulla e si ha detto un piccolo strillo un po commossa dalla paura un po dall'ira e cercò di respingerle da sé ma si ritrovò sul poggio col capo appoggiato sulle ginocchia di sua sorella la quale le toglieva con molta delicatezza alcune foglie appassite che erano cadute sulla sua faccia risvegliati alice cara le disse la sorella che buona dormitona hai fatto eh ho avuto un sogno tanto curioso disse alice e raccontò alla sorella il meglio che per lei si potesse tutte le strane avventure che avete lette sino ad ora e quando finì sua sorella la baciò e le disse è stato davvero un sogno curioso mia cara ma ora va subito a prendere il tè è già tardi e così alice si levò e andò via pensando mentre correva al sogno straordinario che aveva avuto ma sua sorella rimase colà e col capo poggiato alla mano tutta intenta a riguardare il sol cadente riflettendo sulla piccola alice e sulle sue avventure meravigliose calde in una specie di assoppimento e sognò tal cosa simile a questo prima di tutto sognò la piccola alice con le sue manine delicate e congiunte sulle ginocchia di lei e con i suoi grandi occhi lucenti fissi in lei poteva sentire il vero suono della sua voce e vedere quello strano agitarsi della sua testolina per rigettare indietro i capelli che volevano per forza velarne il viso e mentre era tutta intenta ad ascoltare o sembrava che fosse così tutto il luogo che la circondava si animò popolandosi di quelle creature vedute nel sogno della sua sorellina l'erba rigogliosa storniva sotto di lei mentre il coniglio bianco scappava via il sorso spaventato s'apriva sguazzando una via in mezzo allo stagno vicino poteva sentire il rumore delle tazze mentre la lepre marzolina e gli amici suoi partecipavano a quel loro perenne pasto diva la voce strillante della regina che mandava i suoi invitati al patibolo anche una volta il bimbo porcellino starnutiva sulle ginocchia della duchessa mentre i tondi e i piatti volavano d'ogni intorno anche una volta l'urlo del grifone lo scricchiolio della matita della lucertola la soppressione dei porcellini d'india riempivano l'aria sposati al singhiozzar lontano della miserabile falsa testuggine e sedette con gli occhi a metà chiusi quasi si credette davvero nel paese delle meraviglie e che sapesse che aprendo gli occhi tutto sarebbe mutato in realtà desolante avrebbe sentito l'erba stormire all'agitar del vento avrebbe veduto lo stagno increspato a causa delle canne il rumore delle tazze si sarebbe mutato nel tintennio dei campanelli delle pecore e la voce stridente della regina nella voce del pastorello e gli starnuti del bimbo l'urlo del grifone e tutti gli altri strepiti curiosi si sarebbero mutati e la nera persuasa nel rumore confuso ad una fattoria e il mucito lontano degli armenti avrebbe surrogato i profondi singhiozzi della falsa testuggine finalmente volle figurarsi la sua sorellina già cresciuta e diventata donna conservare nei suoi anni maturi il cuore affettuoso e semplice della sua fanciullezza raccogliere intorno a sé altre fanciulle e far loro brillare gli occhi beandoli con historielle curiose e strane e forse anche col sogno delle avventure nel paese delle meraviglie e con quanta simpatica tenerezza che avrebbe la stessa partecipato alle loro innocenti angosce e con quanta letizia alle loro gioie riandando ai beati giorni della fanciullezza e le ocioconde giornate dell'estate grazie